Domenica 9 luglio 2023, buongiorno a tutti e benvenuti alla Rassegna Stampa. Vi ricordo l'appuntamento di domani a partire dalle 18.30 con la compagnia della live che ritorna per parlare di Milan e di mercato e a tal proposito i vostri messaggi vocali al numero 366 111 2964. Domani li ascolteremo, li commenteremo insieme e mi raccomando non mancare a questo grande appuntamento. Domani lunedì 10 luglio a partire dalle 18.30. Eccola la Rassegna Stampa di oggi, cominciamo dalla Gazzetta dello Sport, naturalmente mercato, mercato e ancora mercato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi Lukaku, tutto per l'Inter, il Belga si vede solo in una squadra. Il tema di oggi è Romero Lukaku, l'attaccante dei Chelsea, fondamentalmente che è pronto a ridursi lo stipendio di un milione pur di restare in Nerazzurro e in Zaghi sogna una fabbrica delle golli. Ieri si è parlato anche di un interessamento della Juventus per l'attaccante belga e dopo lo vedremo. L'intervista a Claudio Rotito, il presidente della Lazio, che dice scudetto perché no, per Reimi Linkovic ma il presidente della Lazio dice ci rinforzeremo, Sarri dirige l'orchestra e poi tutta la verità su Berardi. Berrettini super a Wimbledon da spettacolo con Zveriev e si regala Alcaraz. Oggi gioca in campo Sinner. Per quel che riguarda il calcio, torniamo al calcio e veniamo alla questione legata agli attaccanti perché sappiamo che è una della parte di mercato che più interessa ai tifosi ed è anche una delle più difficili per via dei prezzi. Allora per il Milan, ne abbiamo parlato ieri, l'opzione è quella di Taremi nel Mirino, il centravanti del porto, salgono le quotazioni del bomber iraniano. Il Napoli nel frattempo, Ozymane è a rischio, il rischio è quello del Paris Saint-Germain, via Mbappé e i francesi su Victor, se parte l'idea è quella di Jonathan David del Lille. Riguardo a Mbappé poi, insomma, ieri sono state altre dichiarazioni sue, dichiarazioni di Al-Klaifi, insomma il rapporto è complicato, vedremo se come l'anno scorso basterà staccare un assegno importante per farlo rimanere a Parigi. Juve c'è Vlaovic ma può andarsene, spunta e ne siri l'attaccante del Siviglia. Le grandi manovre in attacco anche per i bianconeri. Riguardo a Mbappé, se ne parla naturalmente in Spagna, se ne parla su Ass, alta tensione Mbappé, eccolo qui, giocare nel Paris Saint-Germain ha detto ieri, chi di Mbappé non aiuta e vediamo insomma se questa è l'estate buona per il suo trasferimento da qualche parte. In Spagna intanto c'è delusione per la sconfitta nella finale del campionato europeo Under 21, che ha visto l'Inghilterra vincere 1-0, ha visto l'Inghilterra chiudere senza subire nemmeno un gol in tutto il torneo. Anche se ieri al 96esimo un calcio di rigore fallito dalla Spagna poteva essere la prima rete subita nel torneo dagli inglesi e invece il rigore è stato parato dal portiere dei nuovi campioncini d'Europa e dunque l'Inghilterra vince il torneo. Andiamo al Corriere dello Sport, come vi dicevo qui invece la situazione è un po' diversa rispetto a Lukaku. La Juve prova a strapparlo all'Inter, Vlaovic per Lukaku, Dujan vale Big Rom più 25 milioni. L'ostacolo resta sempre l'Al-Ilal, naturalmente poi c'è sempre la lunga mano dell'Arabia Saudita per quello che riguarda la possibilità che i giocatori se ne vadano, ma insomma vedremo come finirà la storia. Lukaku ha giurato amore nei confronti dell'Inter, adesso è un po' difficile onestamente immaginarlo in bianco-nero, ma sono dinamiche di mercato che potrebbero svilupparsi, vedremo come andrà questa vicenda. Poi, altre cose di mercato, alla ricerca dell'erede di Kim, il Napoli diventa giapponese, arriva Itakura, gioca nel Borussia Mönchengladbach, l'entourage dice vicino e poi in serata la retromarcia, come spesso accade, insomma qui sono le solite dinamiche dove il procuratore propone e poi dopo la società eventualmente dispone, come si dice, la punta dello Stormgrass, il Milan si lancia sul Baby Emega, classe 2003 olandese, 9 gol nel club austriaco, ecco l'idea di Moncada. Ecco un'altra butade giornalistica, mentre la Lazio ha in pugno Kerkez, il terzino della Zeta Alkmar, può anticipare le mosse del Benfica via libera di Sarri per l'ungherese, naturalmente il nostro ex giocatore. Poi il sorriso di Murigno, sbarca a Ciampino, lavora per Morata e carica e dice felice di essere qui. Ironico sui due turni stop per il caso Kifi, dice vedrò due partite con il Fresco, lì è la sua terza stagione, poi ha detto anche dal mercato, non mi aspetto niente. Questo il solito José Murigno, andando a Tutto Sport invece qui si parla della Juventus, Allegri l'ultimo jolly e l'uomo forte della Juve non può sbagliare, il nuovo organigramma rafforza la sua posizione e l'amico Aldo Spinelli dice Max è carico e crede nei giovani al top in due anni. Questo è il nuovo corso bianco-nero che prevede ancora Max Allegri. Poi Yuri ci ha chiesto a Vagnati di sondare il terreno col Milan, parliamo di Pobega, il Toro ci riprova, in Granata avrebbe l'occasione per rilanciarsi, si lavora all'ipotesi di uno scambio con SINGO. C'è un'altra notizia qui, anzi notizia, insomma c'è un'altra cosa interessante, cioè quella dell'anniversario. Oggi il 9 luglio, il 9 luglio del 2006, l'Italia si laureava campione del mondo, quando l'Italia ballava sul mondo e su calciopoli. E' un bel ricordo questo per tutti noi. in Bappé scatena l'inferno, eccolo qui, il Real Osserva, nuovi veleni sul Paris Saint Germain, giocare qui non mi aiuta, compagni e club furibondi. Come dicevamo, vedremo come si chiuderà anche la vicenda di Kylian Bappé in quelle di Parigi. Nel frattempo la vicenda della rassegna stampa si chiude qui, io vi auguro una buona domenica, vi do appuntamento a domani a partire da 18.30, in diretta con la compagnia della Live 366 111 2964 e il numero di telefono per i vostri messaggi.